La parola proteina deriva dal greco e significa di primaria importanza. Voglio cominciare questo percorso dedicato alle proteine proprio soffermandomi sul significato della parola stessa per sottolineare ancora di più quanto sia importante questo macronutriente all'interno della nostra vita. Le proteine, oltre ad avere un ruolo importante nella modulazione del nostro metabolismo e di alcuni nostri ormoni, assolvono quello che viene definito il loro ruolo principale, ossia il ruolo di costituire in prevalenza la nostra struttura corporea. Infatti se ci pensiamo muscoli, tessuto connettivo, tendini sono in gran parte costituiti da proteine e il loro buono stato di salute dipende ovviamente dal modo in cui noi ci alimentiamo quotidianamente. Anche l'Università di Harvard sottolina l'importanza delle proteine inserendole costantemente all'interno dei nostri pasti al 25%. Ecco, le proteine possono essere suddivise in due categorie, in due gruppi, ossia le proteine derivanti da fonti animali e le proteine derivanti da fonti vegetali. Fra le proteine animali abbiamo ovviamente carne, pesce, uova, latte e derivati. Qui dobbiamo fare un po' di attenzione perché in molti casi fonti proteiche animali si portano dietro un bel po' di acidi grassi saturi, che se assunti quotidianamente in maniera eccessiva purtroppo benefici non sono. Cosa diversa invece vale per il pesce, che se scelto soprattutto sotto forno di pesce azzurro, apporta con sé un bel po' di acidi grassi polinsaturi, quindi salubri e positivi per la nostra salute. Per quanto riguarda invece le fonti proteiche vegetali, dobbiamo fare un pochino di attenzione soprattutto per quanto riguarda i legumi e fra le altre fonti proteiche abbiamo anche la frutta secca e i semi laginosi. Per quanto riguarda questo gruppo, dobbiamo appunto fare attenzione al quantitativo di carboidrati che portano con loro e cercare anche lì di mediarli in maniera opportuna all'interno dei nostri pasti per non eccedere appunto con questo macronutriente, ossia i carboidrati. Non sono neanche definibili al 100% proteine nobili in quanto sono carenti di determinati amminoacidi, in particolar modo gli amminoacidi solforati, metionina e cisteina, però diciamo che se noi li combiniamo in maniera corretta con un buon cereale integrale ad esempio andiamo a creare quella che viene definita mutua compensazione proteica, ossia una catena amminoacidica completa. Ecco, proprio parlando di legumi, in molti casi mi sono trovato di fronte a commenti o comunque a chiacchierate e discussioni dove incontravo una certa titubanza nel catalogare questo alimento, ossia è un carboidrato o è una fonte proteica. Apro e chiudo una parentesi, io faccio il cuoco, non sono un medico, non sono un nutrizionista, quindi se vogliamo approfondire ancora di più o mettere in discussione quello che io identifico come fonte proteica, ossia i legumi, andiamo magari a farlo nella pagina di un medico o di un nutrizionista. Il mio obiettivo è quello di cercare di facilitare le cose in cucina, cercando di capire qual è la funzione di ogni alimento in modo tale da saperlo combinare in maniera corretta all'interno delle nostre ricette, dei nostri piatti e dei nostri pasti. E se andiamo a vedere, anche nell'ultimo dossier scientifico del CREA, abbiamo un determinato gruppo alimentare, il gruppo 3, che viene appunto costituito da carne, pesce, uova e legumi. Si va anche a specificare, questo è stato fatto insomma da un gruppo di studiosi che hanno preso in carico più di 40 studi scientifici e sono arrivati a questa conclusione. Nonostante siano di origine vegetale, i legumi, oltre a rilevanti quantità di amido e di fibra alimentare, forniscono notevoli quantità di proteine di buona qualità biologica, ferro e altri oligoelementi, che sono caratteristici della carne, del pesce e delle uova. Vengono quindi inseriti in questo gruppo, in quanto costituiscono un buon sostituto di alimenti di origine animale. Ma oltre alla corretta combinazione fra alimenti, vediamo anche di capire un po' meglio il quantitativo effettivo di proteine che dovremmo assumere quotidianamente. Di proteine, non di fonti proteiche, sono due cose ben distinte. La comunità medico-scientifica, ha dato da tempo dei dati, si attestano fra i 0,8 grammi di proteine per chilo corporeo fino ad arrivare a 2 grammi di proteine per chilo corporeo. ad esempio per persone che fanno attività fisica in maniera molto spinta e molto frequente. Il sedentario invece, diciamo, si attesta su i 0,8. Cerchiamo di fare un po' una media, arriviamo a capire che almeno un grammo di proteine per chilo corporeo a livello quotidiano ci servono. Quindi io sono 78 kg, avrei necessità quotidianamente di almeno un 78 grammi di proteine. sottolineo sempre di proteine, non di fonti proteiche, perché 100 grammi di petto di pollo non corrispondono a 100 grammi di proteine. E anche qua viene in aiuto, insomma, un altro schema, se vogliamo, un altro dato importante, sempre dalla comunità medico-scientifica, in questo caso il LARN, che ha redatto delle tabelle, perché non è che ci possiamo mettere quotidianamente a controllare le proteine contenute in ogni alimento, fare il calcolo prima di provvedere a realizzare i nostri piatti. Quindi ci hanno facilitato la vita, creando quelle che vengono definite le porzioni standard. ossia, ad esempio, si indica che 100 grammi di carne rossa, che è la porzione standard all'interno dei nostri piatti, apporta dai 20 ai 25 grammi di proteine. E ci dice anche la frequenza settimanale, perché, insomma, tutti sappiamo e tutti abbiamo sentito le notizie legate all'alto consumo di carne rossa, che purtroppo danno vita a diverse tipologie di malattie. Ecco, il frequente consumo di carne rossa, ad esempio, non è ovviamente da affrontare e il LARN ci dà come schema settimanale, come consumo settimanale di questa fonte proteica, due porzioni appunto da 100 grammi. Voglio fare anche un affondo in merito alle proteine animali. Lo schema del piatto unico dell'Università di Harvard, che è lo schema che io appoggio da anni e che cerco di divulgare da anni e di mettere in pratica all'interno della cucina, fa riferimento ad un buonissimo quantitativo, ad un elevato quantitativo settimanale, quasi prevalente, di fonti vegetali. Ecco, la scelta, la selezione della materia prima, la metodologia di lavorazione e l'eventuale conservazione sono dei passaggi fondamentali. Per quanto riguarda la scelta, dobbiamo essere consapevoli che, ad esempio, non sono definibili, sostenibili, né dal punto di vista ecologico, né dal punto di vista etico, gli allevamenti intensivi, ad esempio. Quindi, se rispecchiamo, e se rispettiamo un po' di più il concetto del piatto unico, staremo tutti meglio, non solo noi dal punto di vista della salute, ma anche il pianeta in cui viviamo, e gli altri esseri viventi che vivono sulla nostra terra, assieme a noi. È interessante anche capire che la modalità di lavorazione e eventuale cottura delle fonti proteiche hanno una certa rilevanza. Una rilevanza nei confronti della loro biodisponibilità, ossia della capacità che è il nostro corpo di assimilarla al meglio e anche di digerirla al meglio. Qui con me ho una ciotola di vetro con all'interno una spugna che può rappresentare la nostra proteina. Una proteina allo stato naturale ha la sua bella capacità di trattenere liquido, quindi stiamo parlando di una proteina ben idratata e nel momento in cui la esponiamo ad una fonte di calore, questa proteina inizia un po' a distendersi e mantiene, ovviamente una proteina distesa è preferibile per la nostra digestione e per l'assimilazione del nostro corpo, della proteina stessa, nel momento in cui la riscaldo, si distende, ma continua ad avere la sua capacità di idratazione, quindi riesce a trattenere i liquidi. Se i liquidi si perdono, ovviamente si perdono anche tutti, tanti di quei micronutrienti che sono idrosolubili. Nel momento in cui supero determinate soglie di temperatura, la proteina si riarrangia, quindi subisce un'ulteriore trasformazione e tende a perdere il liquido che contiene. Con il liquido se ne vanno parte dei micronutrienti e soprattutto si ha un risultato in cucina che viene definito stopposo, ossia una proteina non assolutamente appagante sotto il profilo del gusto. Bene, quindi affronteremo il mondo delle proteine seguendo uno schema ben preciso, ossia scelta, lavorazione e conservazione, ricordati sempre che le nostre scelte inizialmente fanno sempre la differenza e che il vero e solo ingrediente segreto in cucina sei tu. Ciao e a presto!